Ciao, sono Giovanna e vengo da Giarre. Ho un piccolo negozietto in provincia di Catania che si chiama Love Chocolate. Da noi la particolarità è che troverete tutti i prodotti senza glutine e abbiamo una vasta scelta di senza lattosi e anche una linea molto importante vegana. Facciamo anche delle creme spalmabili, soprattutto quella al pistacchio, senza latte e vegana. Qui trovate una carrellata di cremini, abbiamo 13 gusti di cremini, naturalmente anche quelli tutti senza glutine, abbiamo tantissimi tartufi di tutti i gusti, poi abbiamo il riso soffiato per i più piccoli, quindi con il fondente al latte e il bianco, il fondente senza è vegano, quindi potete mangiarlo anche chi è intollerante al lattosio. Tutti i nostri tronchetti, da quel lato abbiamo tutta una linea di tranchè, le scorzette d'arancia, le tavolozze con le nocciole. Questa è la nostra crema spalmabile al pistacchio, che vi dicevo, ed è vegana e senza glutine, naturalmente. Questa è tutta una linea vegana al latte, senza lattosio, perché viene fatto con un latte di riso e la trovate sia nella lastra semplice, classica, che con le nocciole, che con il riso. Poi abbiamo la massa di cacao, il cioccolato 100%, quindi anche quello senza lattosio, senza zucchero, le barrette fatte apposta senza zucchero, per chi non può mangiare lo zucchero, e poi qui abbiamo tutti i nostri tranchè.